Fabrizio Cecchetti, Alda Merini, una poetessa amata in tutto il mondo, una poetessa che ha saputo parlare dell'amore e della dolcita. Alda Merini è Alda Merini, punto. Rappresenta anche la milanesità, è Milano nel mondo. Oggi, poi è il suo compleanno, 86 anni, avrebbe compiuto una poetessa che sta entrando ogni giorno in più nel cuore di non solo i milanesi, i lombardi e gli italiani, ma addirittura a livello mondiale, grazie anche alla traduzione delle sue opere in lingua spagnola, a milioni e milioni di persone. È un qualcosa che più la si conosce, più la si ama, questo è il dato di fatto. Per questo è importante oggi essere qui, proprio a Alda Merini, perché è sui Navigli, Milano, cuore di Milano, perché è un momento veramente fantastico ed emozionante. Le faccio un'ultima domanda, che emozioni ha dato a lei Alda Merini? Ma l'ho conosciuta al tempo del liceo, era ancora vivente, l'ho apprezzata come tante volte capita quando poi uno non c'è più. Più la conosce, più la ami e più ti senti coinvolto nelle sue poesie, nelle sue aforismi. E mi fa piacere che il Consiglio regionale della Lombardia ha riconosciuto Alda Merini come poetessa dei Navigli di Milano, dando a lei l'intitolazione di una sala. Quindi dal Pirellone è una delle poche, forse l'unica milanese, che ha una sala dedicata al Pirellone, sede del Parlamento Lombardo. Mi fa piacere poi che molti giovani e sempre più giovanissimi si stanno avvicinando all'arte, alle poesie di Alda Merini. Quindi è un pezzo di Milano che ci rende orgogliosi nel mondo e per quanto riguarda è stato amore a prima vista. E perché quello che trasmette Alda Merini, anche nella poesia, io non l'ho trovata da nessun'altra parte, senza nulla togliere a centinaia e centinaia di poeti, ma Alda Merini è Alda Merini.